Io mi sono nato per anni e poi ho conosciuto dei campioni, sempre però con la mentalità indagativa, di indagine. Conoscevo Sergio Nubre, per un gruppo muscolare o meglio per una catena motoria, per lui era normalissimo eseguire 30 serie di lavoro. Poi conobi personalmente è Mikey Messer, per lui due o tre serie al massimo che si potesse fare. Conoscendo tutti e due, avendo parlato con tutti e due, la conclusione era il numero di serie non ha valore e mi resi conto che fondamentalmente era molto legato al carattere delle persone. Grazie a tutti.